Mamma, posso parlarti un attimo? Ti ricordi tre mesi fa che ti avevo detto che sono andata a Roma con le mie mie amiche? Ti ricordi che mi sono ieri a vita? Beh, non ci siamo andate così. Ho fatto le audizioni per entrare in un'università che è un'università che voglio fare, che mi piacerebbe fare. Io vado a studiare recitazione, mamma. Lo so che non faccio medicina come Anna o economia come Sara, però... Io ho sempre fatto quello che volevi. Ho scelto una scuola che mi faceva schifo. Sono stata male per cinque anni. E mi sono sentita tutto il tempo dire che non ero mai abbastanza. Che questo potevo farlo meglio e che c'era sempre qualcuno che non faceva meglio di me. Ma... 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 Ma io sono stanca. Io sono stanca, mamma, perché... Perché io per una volta voglio fare l'egoista. Io lo so... Io lo so che sono una delusione. Che potevo fare di più. Ma io per una volta voglio fare l'egoista. E lo faccio per me. Perché è la mia vita. E non voglio più stare a... A soffrire. E a pensare che cosa tu credi che sia meglio per me. Perché... Perché sono stanca. Perché sono stanca.